Ecco adesso viene caricato il tubo, il tubetto sull'apparecchio, chissà che salta fuori, si prepara quello che si vuole affumicare, si mette la pellicola sopra, si introduce il tubetto, noi abbiamo messo un pezzo di pane invece del specco della carne, quello è segatura, segatura di l'arice, se il fumatore ha l'accendino accende, guarda lì, vedi il fumo che viene, guarda come produce fumo, guarda, ecco il fumo sarebbe fatto, la scodella è piena piena di fumo, ecco, viene pulito l'oggetto, si va nel lavandino, va giù un poco, la cenere e il resto della segatura se ne va e avanti, l'operazione sarebbe terminata, si ripulisce tutto e si mette via, lavoro di pochi minuti, il fumo fa il suo dovere nella scodella, ecco lì, vedi che bello, e lì resta per il periodo che si decide di lasciare, buon divertimento, e dopo come si spegne questo semo?